Sviluppato in collaborazione con i migliori dermatologi, Highlight Essential IPL 4000 è un epilatore a luce pulsata dalle incredibili caratteristiche. La luce pulsata ad alta intensità trasmette energia calorica direttamente nel bulbo pilifero, distruggendolo attraverso un processo termico e quindi impedendo la ricrescita del pelo. La parecchiatura a luce pulsata di Remington è in grado di offrire una soluzione permanente alla pelura indesiderata sul corpo. L'unità è composta da una base centrale ed una pistola per l'epilazione. Sulla base sarà possibile selezionare attraverso i pulsanti dedicati l'intensità della luce emessa e la modalità di pulsione in funzione delle diverse aree del corpo da trattare. La modalità flash singolo verrà utilizzata per i trattamenti localizzati, mentre quella multiflash per le aree più vaste e meno delicate. L'epilazione viene eseguita mediante la pistola che è dotata di un filtro di protezione. Per attivare l'emissione della luce pulsata sarà sufficiente premere il tasto sulla parte posteriore. Ogni lampadina è garantita per un ciclo di vita di 1500 flash. Un led sulla base si accenderà per ricordare che deve essere sostituita. Per sganciare la testa sarà sufficiente premere il tasto che si trova sulla parte laterale. Highlight Essential risulta essere uno dei sistemi a luce pulsata più veloci disponibili al momento sul mercato. Vanta una modalità multiflash con un'emissione luminosa ogni due secondi. In questo modo è possibile trattare aree più vaste rispetto ad un sistema laser ed in metà tempo. All'interno della confezione, oltre al libretto di istruzioni, sono forniti il cavo di alimentazione e un panno per la pulizia. Highlight Essential IPL 4000 di Remington è un sistema di epilazione davvero all'avanguardia. È veloce, indolore e molto efficace, un dispositivo in grado di rendere piacevole ogni esperienza di epilazione.